anno bisestile cosa significa l'anno bisestile prende il nome dall'espressione latina bis sexto dai sesto giorno ripetuto i romani infatti aggiungevano al calendario un giorno in più dopo il 24 febbraio detto ante diem bis sextum calendas martias sesto giorno prima delle calende di marzo l'anno bisestile è sostanzialmente un anno che conta un giorno in più tradizionalmente il 29 febbraio e che nel calendario giuliano cade ogni quattro anni negli anni appunto divisibili per quattro mentre nel calendario gregoriano il nostro cade sia ogni quattro anni che negli anni secolari divisibili per 400 qual è stato il primo anno bisestile l'idea dell'anno bisestile venne a giulio cesare nel 46 a c quando ancora veniva conteggiato dopo il 24 febbraio cioè prima delle calende di marzo l'applicazione degli anni bisestili è stata però definitivamente regolarizzata da ottaviano augusto a partire dall 8 d c il primo anno bisestile per come lo conosciamo oggi e cioè da quando i giorni sono conteggiati a partire dal primo del mese è stato perciò l'otto d c anno bisestile a cosa serve l'anno bisestile serve a colmare un gap temporale nel mutare delle stagioni ed è tipico dei calendari solari giuliano e gregoriano principalmente la terra impiega 365 giorni 5 ore 48 minuti e 45 secondi a completare un orbita intorno al sole il che non coincide con il calendario gregoriano attualmente in utilizzo che di giorni ne conta solo 365 anno bisestile quanti giorni dal momento che entro una secolo senza utilizzare l'anno bisestile si avrebbe uno sfasamento tra anno solare e anno tropico di circa 24 giorni si è deciso di introdurre un giorno in più ogni 4 anni per riequilibrare la tempistica la durata media dell'anno si allunga perciò rispetto a quella solita diventa così di 365,25 giorni ovvero 365 giorni e 6 ore riducendo il gap con l'anno tropico l'anno bisestile nella cultura popolare l'anno bisestile è tradizionalmente considerato un anno di sventura da qui il proverbio anno bisesto anno funeisto ma ci sono altre leggende popolari che riguardano il 29 febbraio una tradizione anglosassone ad esempio vuole che il 29 febbraio sia lecito per le donne fare una proposta di matrimonio ai loro fidanzati e non viceversa la stessa consuetudine vuole che la proposta sia necessariamente accettata in caso di rifiuto gli uomini dovrebbero risarcire le loro compagne nel nord europa questa consuetudine è ancora in atto gli uomini che rifiutano una proposta di matrimonio il 29 febbraio sono tenuti a regalare alle loro compagne guanti o vestiti nascere in un anno bisestile chi compie gli anni in un anno bisestile naturalmente non può aspettare quattro anni per poter festeggiare il compleanno tradizionalmente il compleanno viene perciò festeggiato il 28 febbraio o il primo marzo tranne nel caso in cui la città di provenienza non decida di organizzarne uno in grande stile cosa che accade ad esempio nelle città di anthony in texas e in new mexico